Castello Scalicero di Villa Franca di Verona Come se la cava Come cosa? Come cantanti Come conisti Proviamo Ea, tipo Oh, 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 oh è meglio che smettiamo perché sennò vi fate fare una brutta figura nel senso che siete molto più bravi voi di me e allora il progine è superato vi va bene, vi distranno il culo che è corto perché sennò eravate tutti assolgati come bohisti però vi aspetto il prossimo anno dopo finire i contratti è una a una e lo dico e allora adesso con le mani con le braccia quasi da giù con le spalle con i fianchi con le gambe con i piedi con le ginocchia con le orecchie con gli occhi ma soprattutto con il cuore e con l'anima Castello Scaligero prossimo che sì con le gambe 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 che Grazie.